Un'esperienza straordinaria, io ringrazio la scuola, ringrazio la preside, ringrazio i ragazzi perché mi hanno regalato un giorno bellissimo, è stato un incontro, confronto con loro diretto e molto educativo. Sono veramente contento di questa giornata, di questa mattinata perché rappresentare il Catania in particolar modo e rappresentare uomini di sport in questi contesti credo che faccia sempre bene. Quindi veramente è una giornata molto bella che speriamo di poterne ripetere tante tornando alla normalità perché entrare in questi contesti e nelle scuole credo che sia doveroso da parte nostra.